Di questi tempi non c'è niente di più facile che acchiappare una fotocamera e scattare delle fotografie in automatico. Ma oggi andremo a vedere come possiamo fare per ottenere il massimo dalle modalità di lavoro che le nostre fotocamere ci mettono a disposizione. Andiamo innanzitutto a capire che cosa sono queste modalità. Se avete in mano una fotocamera vedrete che probabilmente su uno dei due lati avrete una rotella come questa con sopra delle lettere e dei simboli. Ora se siete abbastanza esperti probabilmente state usando la modalità manuale, quindi la letterina che andiamo a individuare è la M. Che è quella che io uso il 99% delle volte. Tuttavia oggi andiamo a vedere anche qualche altra modalità che può essere molto molto interessante e che può aiutare a creare delle fotografie in maniera un po' più agevole. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e oggi realizzo questo contenuto sulla scia di un altro video che avevo fatto sui modi di lettura. Stiamo esplorando le varie modalità che le nostre fotocamere ci mettono a disposizione per interpretare correttamente le condizioni di luminosità delle scene che vogliamo fotografare. Vi lascio in card linkato il video in questione, andatevelo a recuperare se non l'avete ancora visto. È uno dei video che hanno avuto più successo su tutto il canale, quindi ve lo consiglio veramente. Vi posso anche suggerire di iscrivervi a questo canale perché comunque stiamo portando avanti questo discorso dove io cerco di andare a parare, dove mi fate capire che ci sono magari delle carenze, delle lacune o dove volete che io vada ad aggiungere delle informazioni per rendervi più consapevoli su come funzionano certi meccanismi per cui seguite il canale, il metodo migliore per rimanere aggiornati e non perdervi i capitoli di questa interessante saga. Ma torniamo alle nostre modalità. Come abbiamo detto sui dorsi di quasi tutte le nostre fotocamere digitali abbiamo i simbolini che ci permettono di scegliere la modalità di lavoro. Se non avete la rotella probabilmente c'è un menu a display, quindi premendo menu probabilmente ottenete esattamente la stessa cosa. Ora, queste modalità funzionano in maniera diversa e devono essere impostate in maniera diversa a seconda di quello che stiamo andando a fare e nel corso di questo video andremo non solo a capire quale modalità serve a quale scenario, ma andremo anche a capire effettivamente come usarle. Andiamo per step, poniamo che siate alle primissime armi e quindi probabilmente state usando automatico OP che sta per program. Queste sono due modalità in cui fondamentalmente la macchina fotografica si prende cura dell'esposizione, fa tutto da sola e a noi lascia solamente l'onere di comporre la foto. Quindi noi facciamo l'inquadratura, premiamo e la macchina fotografica in autonomia deciderà qual è l'esposizione migliore per gestire la scena che abbiamo inquadrato. La macchina fotografica infatti ha un esposimetro interno che legge la luce presente sulla scena che noi inquadriamo e quindi più o meno sa come regolarsi per catturare correttamente questa scena. Vi rimando nuovamente al mio video sui modi di lettura perché a seconda del modo di lettura che abbiamo impostato è possibile che la macchina legga la luce dando un peso diverso al centro piuttosto che ai bordi, così come è possibile che la macchina dia prevalenza al punto dove la macchina mette a fuoco, così come è possibile che la macchina cerchi di capire la scena che abbiamo di fronte in base a una serie di scene preimpostate che vengono caricate dalla casa madre. Quindi a seconda del modo di lettura che abbiamo impostato potremo avere dei risultati estremamente diversi. Per esempio se io mi trovo in mezzo tutto questo bianco viene letto dalla macchina fotografica e gli viene dato un certo peso. Se io mi sposto qui su un lato, a questo punto qui rimane una scena un pochettino meno chiara e quindi il peso del bianco sarà differente nell'inquadratura. Io adesso torno in mezzo con questa bellissima sedia d'ufficio con le rotelle che si incastrano. Per cui le modalità automatiche, automatico e program andranno a leggere la scena in base ai modi di lettura e ci restituiranno una scena più o meno corretta. In questo caso è tutto automatico, la macchina sta facendo tutto da sola. Questa è una modalità di lavoro che io sconsiglio francamente perché la macchina spesso e volentieri interpreta ma non è sempre accurata 100% e soprattutto lasciare lavorare la macchina in questo modo ci preclude qualsiasi possibilità di spunto creativo. Facciamo fatica a fare un controluce, facciamo fatica a fare una silhouette, facciamo fatica a dire alla macchina come vogliamo che venga esposta questa foto. Cioè la macchina farà sempre di testa sua e difficilmente ci restituirà un risultato artistico. Sarà sempre un compromesso deciso da un microchip interno, quindi non possiamo mettere la nostra visione all'interno delle foto. Per questo motivo io vi consiglio di lavorare in modalità manuale. Manuale e programme automatico sono quanto di più lontano possa esistere. Perché mentre nel caso delle modalità automatiche la macchina fa tutto da sola, nel caso della modalità manuale noi dobbiamo immettere tutti i parametri per decidere la nostra esposizione. I parametri alla fine sono tre, quindi non è sta gran cosa. Abbiamo i valori ISO, quindi è la sensibilità del sensore che richiama la sensibilità che una volta era della pellicola. Abbiamo i tempi di scatto, ovvero per quanto tempo la nostra macchina deve stare in posa per catturare quella scena. E abbiamo un terzo valore che stabilisce di quanto si apre il diaframma all'interno del nostro obiettivo per lasciar passare più luce. Ora tutti questi tre fattori vengono misurati in stop. È l'unità di misura che è stata stabilita per valutare il rapporto che c'è fra questi tre parametri. Questo che cosa significa? Poniamo di aver esposto correttamente la nostra scena. Se io aumento di uno stop l'esposizione su un parametro per ribilanciare la scena dovrò diminuire di uno stop su uno degli altri due parametri. Quindi è un rapporto uno a uno. Diciamo che se io modifico un parametro dovrò modificare dello stesso amount anche uno degli altri due parametri per ottenere l'esposizione corretta. Ovviamente questi numeri possono anche essere ridistribuiti. Per esempio se io ho l'esposizione corretta aumento gli ISO di due stop dopodiché posso diminuire i tempi di uno stop e i diaframmi di un altro stop. È sufficiente che il numero alla fine torni ma io posso ridistribuire i parametri come più mi piace. Ovviamente quello che io faccio ha delle conseguenze. Per esempio se lavoriamo con gli ISO nel momento in cui abbiamo ISO bassi quindi ISO 100, ISO 50, ISO 64 dipende da quali sono gli ISO nativi della nostra fotocamera. Vi lascio in card un altro video molto interessante per capire come lavorare bene con questi valori. Nel momento in cui io modifico gli ISO se li tengo bassi avrò la massima qualità possibile e la massima gamma dinamica possibile. Se io li aumento avrò un deterioramento della qualità d'immagine. Quindi sarebbe meglio tenerli bassi. Per quanto riguarda i tempi di scatto anche qui ci sono delle differenze nel senso che se io uso dei tempi di scatto molto rapidi cristallizzo l'azione in movimento. Se io ho un movimento, una persona che corre, se io uso dei tempi molto rapidi la persona sarà cristallizzata nel suo movimento. Se invece uso dei tempi lunghi vedremo la scia della persona. Per esempio se io voglio fare le stelle cadenti o se voglio fare i trail delle macchine, delle automobili di notte, quindi sapete le scie dei fari dell'automobile di notte, li uso un tempo di posa lungo perché devo dare il tempo alla macchina di fare quel percorso in maniera tale da lasciare la scia. Quindi i tempi hanno un effetto drammatico sul risultato finale della nostra foto. Se stiamo scattando a mano libera dobbiamo tenere dei tempi di un certo tipo perché se usiamo un tempo di un secondo di posa a mano libera la foto sarà tutta mossa. Io a mano libera non riesco a stare fermo un secondo, nessuno ci riesce, è impossibile. Quindi bisogna fare attenzione a questa cosa. Anche i diaframmi hanno un effetto sul risultato finale della nostra esposizione. Infatti con un diaframma molto aperto entrerà più luce e quindi potrò magari redistribuire questa luce sugli altri due parametri, magari diminuendo i tempi di scatto per non avere la foto mossa o abbassando gli ISO per non avere una foto piena di rumore. Però se io apro tutto il diaframma avrò una profondità di campo molto molto sottile. La profondità di campo per chi non lo sapesse è la porzione a fuoco della nostra immagine. In questo momento nella ripresa che state guardando voi la profondità di campo va dal mio naso al mio orecchio più o meno. Se io metto una mano qui vedete che non è perfettamente a fuoco. Se io mi copro la faccia con la mano vedete che va a fuoco la mia mano, vedete che la mia faccia dietro non è più perfettamente a fuoco, è un pochino sfocata. Adesso la profondità di campo abbraccia solamente la mia mano. Quindi la porzione di fotogramma che è a fuoco. Io sto usando un diaframma di f5, quindi la mia profondità di campo è sufficiente a tenere a fuoco tutta la mia figura. Se io stessi usando un diaframma molto più ampio, magari riuscirei a mettermi a fuoco l'occhio ma il naso e l'orecchio sarebbero già fuori fuoco. Quindi avrei una profondità di campo che mi coprirebbe solamente la fascia dell'occhio. Un effetto che può essere artistico ma personalmente non lo amo tantissimo perché genera confusione e affatica molto l'occhio. Per cui anche lì gestire il diaframma con consapevolezza perché se abbiamo una profondità di campo così sottile che il nostro soggetto diventa poco intellegibile è un peccato. Bisogna gestire tutti e tre i parametri con cognizione di causa ed è proprio quello che andrò a spiegarvi nel corso del video che infatti vi consiglio di seguire fino alla fine. Dunque abbiamo stabilito che con la modalità manuale io devo dargli tutti e tre questi parametri. Devo decidere gli ISO, devo decidere i tempi, devo decidere i diaframmi e vi faccio l'esempio più pratico del mondo. Nel video che state guardando io ho impostato ISO 800 perché è l'ISO base per il profilo colore log della mia fotocamera quindi è la combinazione migliore possibile. Per cui ISO 800, F5, F5 per un motivo perché sto utilizzando una lente kit da diaframma variabile quindi sono costretto a usare F5, potrei usare F8 ma vorrei un pochino di sfondo sfocato per quanto sia possibile. Con F8 sarebbe perfettamente a fuoco anche il backdrop, forse sarebbe anche a fuoco la mia mano se la metto qua con F8. Quindi lascio F5 che è il diaframma minimo che posso utilizzare. Sto utilizzando un cinquantesimo di secondo perché sto girando a 23 frame al secondo, questa è una regola del video e normalmente lo shutter dovrebbe essere il doppio dei frame al secondo. Quindi 24 frame al secondo, un cinquantesimo, questa è una regola base per il video ma è solo per farvi capire che parametri ho impostato. Io sto lavorando in manuale perché se io lavoro in manuale la mia ripresa rimane così com'è anche se io mi muovo, anche se io cambio delle cose. Nel momento in cui io faccio questo vedete che la mia mano non è illuminata perché non ho messo delle luci dietro e l'ho fatto di proposito. In una ripresa come questa, lavorando in manuale, se io faccio questo l'esposizione non cambia. La mia maglietta rimane bianca come era, il mio incarnato rimane del colore giusto, la mia mano è scura. La maggior parte degli youtuber che fanno video e che non si occupano di fotografie e videomaking, perché quelli che si occupano come me di fotografie e videomaking queste cose le sanno, tutto il resto del mondo mettono la macchina in automatico e quindi quando fanno questo, quello che succede è che la macchina va a compensare e va a esporre per la nostra mano che è nera, quindi tirando sugli iso, modificando i tempi, quindi magari causando anche delle scie perché vai a usare dei tempi sbagliati, perché usano la macchina in automatico? Utilizzando la macchina in manuale hai il massimo controllo possibile sulla tua immagine e l'esposizione non cambia da sola solo perché ti sposti. Con l'esposizione automatica se io mi muovessi a lato, facendo una cosa di questo tipo e lasciando quest'area che è più scura al centro del fotogramma, la fotocamera verrebbe tratta in inganno e alzerebbe l'esposizione, quindi potrebbe aumentare gli iso, potrebbe diminuire i tempi oppure potrebbe modificare i diaframmi, sono tutte cose che io non voglio, perché io non voglio cambiare i tempi, perché sto scattando a 24 frame al secondo e quindi voglio che i miei tempi siano quelli giusti, voglio che il mio diaframma sia sempre quello giusto in modo da tenermi sempre a fuoco, voglio che i miei iso non varino, perché se variano gli iso ci sono delle scene con più rumore, delle scene con meno rumore, delle scene con più o meno gamma dinamica, io non voglio queste modifiche durante il mio video, sono bruttissime, fanno un effetto amatoriale, fanno proprio effetto smartphone, è una cosa che io assolutamente non voglio, quindi se volete il massimo controllo lavorate in manuale sempre. Tuttavia esistono delle modalità che sono interessanti, che sono le cosiddette modalità priorità. Sulla rotella, sui dorsi delle nostre fotocamere le trovate probabilmente indicate con AV o TV, Nikon ha una dicitura diversa, mi pare che abbia una S da qualche parte, però insomma dovete identificare, andate a vedere sul vostro manuale quali sono le modalità denominate priorità, priorità di tempi e priorità di diaframmi. Andiamo a vederle con ordine. Priorità di diaframmi, che su Canon è identificata con la letterina AV, quindi valore dell'apertura, fondamentalmente noi stiamo dicendo alla nostra fotocamera, gestiscimi i tempi in automatico a partire da un diaframma fisso, che ti dico io. Quindi nel mio caso, per esempio, io potrei dire alla mia fotocamera, io ti metto priorità di diaframmi e ti metto F5. Dimmi tu, fotocamera, che tempi di scatto devi usare per darmi l'esposizione corretta. Il problema ovviamente è che in un'esposizione come quella che vedete adesso, per esempio, c'è tanto bianco nel centro e la macchina tenderebbe a sottesporre, quindi la ripresa sarebbe troppo scura. Se io avessi una maglietta grigia, la ripresa sarebbe perfetta, perché il grigio 18% è più o meno simile all'incarnato, quindi purtroppo dipende dalla scena. Le modalità priorità si usano con successo in determinati casi, però solo in determinati casi, altrimenti dobbiamo cominciare a ricorrere alla compensazione dell'esposizione, che è un'altra cosa di cui ho parlato in un altro video che vi lascio linkato. Mettiamola così, per farla semplice. In una ripresa come questa, con tanto bianco, io potrei impostare priorità di diaframmi, gli direi F5, la macchina sicuramente andrebbe a sottesporre. A questo punto io andrei a compensare compensazione dell'esposizione di uno o due stop e gli direi come deve essere la mia ripresa giusta. Il problema però permane, perché nel momento in cui io mi sposto da una parte, oppure nel momento in cui io metto la mia mano scura davanti, l'esposizione cambierebbe drasticamente perché la macchina andrebbe a rivedere tutti i parametri. Passiamo alla seconda modalità di priorità, ovvero priorità di tempi. TV, time value sulle rotelle di Canon, su altri brand potrebbe esserci una dicitura diversa, però anche lì identifichiamo la modalità priorità di tempi e non possiamo sbagliare. Priorità di tempi fa esattamente il contrario, ovvero stabiliamo i tempi di scatto, in questo caso io potrei dire alla mia macchina stiamo scattando a un cinquantesimo di secondo, dimmi tu che diaframma dobbiamo usare per avere la scena esposta correttamente. E nuovamente la mia macchina andrebbe a cercare il grigio 18%, che è il valore dell'incarnato di un bianco caucasico, ci sono i cartoncini di grigio 18% per fare l'esposizione. Se io avessi una maglietta nera, probabilmente la mia camera tenderebbe a sovraesporre perché cercherebbe di far diventare grigio il nero che legge. In questo caso invece la macchina andrebbe a sottoesporre perché cercherebbe di far diventare questo bianco grigio e quindi questo ci comporta dei problemi e dobbiamo sempre andare a usare la compensazione dell'esposizione. Quindi io dovrei andare a modificare la compensazione dell'esposizione per dire alla mia macchina ok, dato il valore di questa scena che stai leggendo con tutto questo bianco, sovraesponimela di uno o due stop in maniera tale che la lettura sia corretta perché la macchina legge bianco e cerca di pareggiare noi dobbiamo con la compensazione dirgli di non pareggiarlo. Una volta fatto questo i metodi di priorità di tempi e di diaframmi funzionano correttamente. Sempre però con l'handicap che se il soggetto si sposta cambia l'esposizione. Se io introduco qualcosa di scuro cambia l'esposizione. Se io mi sposto da una parte cambia l'esposizione. Questo io personalmente lo trovo intollerabile perché io non voglio che cambi l'esposizione. Una volta che ho fatto la mia scena voglio che sia quella. Esistono dei momenti in cui è indispensabile come possono essere gli eventi. Se io sono a un evento con luce variabile, faccio l'esempio un concerto con le luci che cambiano di continuo, lì può essere molto comodo impostare priorità di tempi. In questo modo io dico alla mia macchina scatta sempre con un tempo di un duecentesimo. Con un duecentesimo io sono relativamente sicuro che gli artisti che si stanno esibendo saranno sempre a fuoco, non ci sarà mosso o micromosso perché è uno scatto abbastanza rapido. Decidi tu i diaframmi, non mi interessano i diaframmi. In questo momento mi interessa esporre correttamente la scena però i diaframmi non mi interessano così tanto. Che sia f2.8 o f5.6 non mi interessa quindi decidilo tu fotocamera. Noi possiamo anche andare a impostare un range. Possiamo dire per esempio alla nostra fotocamera che deve stare tra f2.8 e f8. Possiamo dire alla nostra fotocamera che non deve andare a f1.4 e che non deve andare a f22 magari perché lì sarebbe troppo. Quindi possiamo dargli un range per l'automatico dentro il quale la macchina si muove e da lì non esce. Stessa cosa possiamo fare con i tempi. Poi dipende dal modello. Alcuni modelli questo non ce l'hanno. Questa è una funzione già un po' avanzata. Però la maggior parte dei modelli dovrebbero metterci a disposizione anche un parametro per dire alla macchina scattami sempre tra un sessantesimo di secondo e un duecentocinquantesimo di secondo. Non andare a un millesimo perché è inutile. È troppo. Non andare sotto un sessantesimo perché sennò mi viene mossa. Così riusciamo a stare più o meno all'interno di un binario e riusciamo a gestire correttamente quella scena. Potremmo fare la stessa cosa con priorità di diaframmi. Per esempio magari io sto facendo fotografia di interni o fotografia di architettura in un contesto di luce variabile perché ci sono le nuvole che continuano a passare. Quindi c'è prima sole poi nuvolo prima sole poi nuvolo. Mi rompo le scatole. Passo in priorità di diaframmi e dico alla macchina scatta sempre a f11. Decidi automaticamente i tempi. Che tu mi scatti con tre secondi di posa o con un sessantesimo di tempo di posa non me ne frega niente. Basta che mi tieni l'esposizione corretta con f8, f11 o quello che è. Anche qui se ci fosse un ambiente molto luminoso per esempio dei muri bianchi potrei andare a usare la compensazione dell'esposizione per dire alla macchina ok scattami sempre a f8. Gestiscimi tu i tempi però me la stai scurendo troppo perché i muri sono chiari quindi tu tendi a compensare. quindi io vado a dirti con la compensazione dell'esposizione che me la devi tenere un pochettino più chiara di come la stai interpretando. Ora se fin qui vi è tutto chiaro andiamo a introdurre un'ulteriore complicazione ovvero gli ISO automatici. Sì perché fino adesso abbiamo dato per scontato che nelle modalità full automatic quindi automatica o le varie scene e program la macchina fa tutto da sola. Nel momento in cui andiamo a utilizzare la modalità manuale dobbiamo decidere tutto noi. Nel momento in cui usiamo le priorità invece stiamo decidendo un parametro ma che cosa succede con gli ISO? Gli ISO vengono gestiti separatamente nel senso che noi possiamo decidere di impostare gli ISO manualmente quindi in modalità manuale possiamo gestire gli ISO manualmente e in modalità priorità possiamo gestire gli ISO manualmente ma in entrambi i casi possiamo anche gestirli in automatico. Che cosa significa? Prendiamo per esempio il caso della modalità automatica. Io potrei decidere che sto usando F5 e potrei decidere che sto usando un cinquantesimo perché questi parametri mi servono, mi interessano. Gli ISO magari mi interessano di meno. Che siano ISO 800 o che siano ISO 1600 o che siano ISO 400 non mi interessa. Per cui io potrei dire alla macchina gestiscimi gli ISO automaticamente e quindi in base alla scena io ti ho dato i tempi e i diaframmi però gli ISO smazzateli tu con l'esposimetro interno in maniera tale che io non debba continuamente stare a guardarli e che la scena sia sempre compensata correttamente. Anche qui se io metto la mano davanti sballa tutto perché è nera. Se io mi sposto di lato sballa tutto perché levo il bianco dal centro dell'inquadratura e quindi l'esposizione cambia perché gli ISO sono automatici e quindi cambiano. Ci sono certi casi in cui può servire. Se sto facendo sport per esempio magari io sto facendo una gara di formula 1 faccio per dire e quindi voglio un tempo di scatto ben preciso perché devo cristallizzare l'azione magari ma voglio fare del panning e quindi ho scelto un tempo ben preciso. Ho un diaframma ben preciso perché voglio una certa porzione a fuoco ma non troppo. Gli ISO sono un parametro che sacrifico in questo caso per avere l'esposizione corretta. Li gestisco in automatico perché non riuscirei a seguire la scena dovendo sempre cambiare gli ISO. Se ho una gara di formula 1 con parte della pista al sole parte della pista in ombra non riuscirò mai a seguire la macchina e cambiare il parametro nel mentre che una macchina da formula 1 passa dal sole all'ombra. Ecco che mettendo gli ISO in automatico dico alla camera di gestirmi quella transizione e questo lo potrei fare anche nelle modalità priorità. Infatti io potrei dire alla mia macchina siamo in priorità di diaframmi benissimo priorità di diaframmi significa che mi cambi i tempi ma io ti dico di gestirmi in automatico anche gli ISO. Significa che tempi e ISO andranno a lavorare insieme quindi verranno entrambi modificati per darmi l'esposizione corretta. Se faccio priorità di tempi stessa cosa anche lì posso dire alla macchina di tenermi fissi solo i tempi. Per esempio io magari sto facendo una gara di bicicletta sotto il sole quindi una situazione dove c'è tanta luce. A quel punto mi interessano solo i tempi di scatto. Scatto a un duecentocinquantesimo un cinquecentesimo un millesimo di secondo perché voglio cristallizzare l'azione dei miei sportivi che procedono nella loro gara. I diaframmi e gli ISO non mi interessano perché tanto so che più o meno con tutta quella luce siamo sotto il sole con tutta quella luce la macchina fotografica andrà a scegliermi un diaframma di un certo tipo e magari la posso anche limitare. Le posso anche dire mi devi fare tra f2.8 e f5.6 e gli posso anche dire mi devi mettere un valore ISO che stia fra ISO 100 e ISO 3200 così la mia macchina si muove in quel range e anche se io inquadro diversamente i vari sportivi che corrono magari passano da una zona d'ombra a una zona di sole la macchina cambierà di poco coi parametri e cercherà di tenermi la scena giusta lasciandomi la libertà di poter comporre e scattare più serenamente senza dover continuamente controllare che l'esposizione sia giusta. Ora vi dico in tutta onestà queste modalità io non le uso non le uso perché non faccio eventi e ho scoperto in vita mia che non mi piace fare eventi non mi piace fare matrimoni non mi piace fare cerimonie non mi piace fare sport non mi piace più fare concerti una volta mi piaceva adesso non mi piace più non mi piace più anche perché mi sono reso conto che valgo molto di più se faccio lavori di altro tipo valgo nel senso di remunerativo quindi vengo pagato molto di più se faccio lavori di altro tipo quindi non ci tengo più a fare eventi non ci tengo più a fare contesti di luce variabile non mi interessano non mi interessano non mi piacciono e oltretutto guadagno molto di più facendo altro quindi per quello che mi riguarda io lavoro sempre in manuale ormai ho utilizzato i metodi priorità in vita mia ma non li uso più perché non ne ho bisogno e quindi vi dico la mia filosofia è lavorare sempre in manuale perché comunque hai più controllo ci sono dei casi luce variabile piuttosto che scene diverse magari devo fare una foto di qua contro luce verso il tramonto però devo fare una foto anche di là magari sto facendo un concerto con delle luci ma voglio fotografare anche il pubblico quindi contesti molto diversi in cui può fare comodo delegare qualcosa alla macchina ricordiamoci sempre che cosa cambia in base ai parametri il parametro che teniamo fisso o i parametri che teniamo fissi devono essere quelli a cui teniamo di più per esempio stiamo facendo un paesaggio il parametro a cui teniamo di più è sicuramente il diaframma perché un paesaggio vogliamo avere praticamente tutto a fuoco quindi impostiamo il nostro diaframma possiamo delegare alla macchina i tempi quello sicuramente possiamo delegare forse anche gli iso però se vogliamo avere più controllo invece teniamo gli iso manuali oppure stiamo invece facendo stiamo facendo una lunga esposizione con l'effetto seta allora il parametro che ci interessa di più è sicuramente il tempo perché solamente gestendo i tempi e dicendo alla macchina di utilizzare un tempo di posa lungo otteniamo quell'effetto quindi possiamo impostare i tempi in priorità di tempi e quindi gli diciamo 30 secondi di posa i diaframmi potrebbero essere gestiti anche in automatico così come anche gli iso certo che se invece lavoriamo in manuale e gli diciamo che vogliamo 30 secondi ma che vogliamo f8 e che vogliamo iso 100 avremo la qualità massima possibile perché in caso contrario la macchina farà di testa sua e quindi probabilmente noi gli diciamo 30 secondi però magari la macchina di default imposta f4 e magari la macchina di default imposta iso 800 ed è un peccato perché abbiamo meno gamma dinamica e meno profondità di campo in manuale potevamo gestire questa cosa e avere il massimo dalla nostra strumentazione ovviamente per una scena statica se è una scena con del movimento scene di altro tipo è possibile che le modalità priorità ci vengano incontro ovviamente bene amici mi fermo qui perché questo video è durato anche troppo io spero di avervi illustrato grosso modo qual è la filosofia dietro alle modalità di lavoro della nostra fotocamera vi aspetto nei commenti se avete domande questioni di qualsiasi tipo se volete approfondimenti su qualcosa fatemelo sapere perché ascolto i vostri suggerimenti vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi le mie risposte in formato verticale ai commenti più interessanti che mi lascerete qui sotto e ovviamente le puntate successive di questa interessantissima saga il nostro viaggio nella luce è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao